Siamo all'interno della conceria di Pompei uno dei più importanti impianti artigianali conosciuti dal mondo antico di questo di questo genere è il più grande ritrovato a Pompei. Si tratta di un impianto realizzato al di sopra di strutture precedenti relativi a delle case di età sannitica che sono state poi modificate per essere trasformate appunto in questo impianto artigianale all'interno del quale avveniva la concia delle pelli. Ci troviamo in un'area limitrofa della città vicino alle mura proprio perché la lavorazione delle pelli poteva essere maleodorante per cui ci troviamo in una zona periferica lontana dal centro della città. L'edificio ha vari ambienti che servivano per le varie fasi di lavorazione delle pelli c'era un'area aperta in cui avvenivano le operazioni di lavaggio raschiatura e battitura delle pelli e poi c'era invece un ambiente corticato interno dove erano presenti 15 vasche cilindriche rivestite di coccio pesto che servivano invece per la macerazione del pellame e quindi poi la fase finale della concia.